I PARTECIPANTI Il nome di Michael, era stato tirato in ballo per l'edizione VIP di Temptation Island, ma, come mostra questa foto pubblicata in anteprima dal sito di Davide Maggio, sembra proprio che il giovane sia pronto per prendere parte alla versione NIP. Nell'immagine si vede infatti Michael insieme ad altri quattro modelli alla loro prima esperienza televisiva pronti per partire con le registrazioni del reality. Per quanto riguarda invece le coppie o le tentatrici che prenderanno parte a Temptation Island ancora non sono state comunicate. Tuttavia le registrazioni partiranno a breve, e di sicuro presto il mistero sarà svelato. L'unica certezza per ora è la presenza confermatissima di Filippo Bisciglia al timone del programma che con i suoi falò di confronto è già pronto a una nuova spumeggiante edizione. Potocredits Davide Maggio leggi anche. Temptation Island, le prime anticipazioni della quinta edizione. .